Una sola cosa cazzo gli vorrei dire però, Mario Valotelli ha un nome italiano, ha uno spiccato accento bresciano, ma è un guerriero ascianti, ovvero sia una delle dieci razze principali dal punto di vista fisico del pianeta. Mario gioca come un guerriero ascianti, il resto non mi interessa, gioca come un guerriero ascianti, Mario non gioca come un guerriero ascianti, gioca come un ragazzo italiano che non sa di essere finito lì dentro, ma la sua base antropologica è un'altra.